Ciao e benvenuto a questo ciclo di video che farò relativamente alla finanza comportamentale e anche all'economia comportamentale. Iniziamo a step, quindi per prima cosa alla finanza comportamentale. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è farti capire quelli che sono i principali errori cognitivi, errori comportamentali che il risparmiatore, io e te, commettiamo quando prendiamo delle decisioni di investimento. Non so ancora bene quanti ne farò di video, ma sicuramente ne farò parecchi. In ogni caso partiamo. Il primo aspetto che devi considerare è che i risparmiatori commettono degli errori. Ci sono due filoni per dare un contributo, se vogliamo, accademico allo studio degli errori comportamentali dei risparmiatori. Il primo è appunto quello della finanza comportamentale, i cui gli artefici principali della disciplina sono Kahneman e Tuersky che hanno vinto il premio Nobel nel 2002. Purtroppo Tuersky in quell'occasione non c'era più perché era venuto a mancare qualche anno prima per i loro studi fatti durante gli anni 70. Diciamo che non è che hanno inventato la finanza comportamentale, c'erano già tanti studi che dimostravano appunto questa irrazionalità nel prendere decisioni di investimento da parte degli individui. Che cos'è che è stata la loro intuizione? Bene, quando parliamo di finanza comportamentale dobbiamo anche considerare che cosa? Noi siamo animali irrazionali fino a quando non siamo messi alla prova nel prendere delle decisioni in situazioni di incertezza. Quando viviamo una situazione di incertezza tendiamo a diventare irrazionali. Ovviamente quello che hanno fatto appunto Kahneman e Tuersky è quello di avere individuato nei mercati finanziari la massima situazione di incertezza in quanto appunto i mercati finanziari per definizione non sono prevedibili, anche se poi io per primo cerco di fare delle analisi, cerco di fare delle previsioni finanziarie, ma come ben sappiamo nessuno ha la sfera di cristallo. Ecco, in queste situazioni di incertezza tendiamo a essere irrazionali, quindi perdiamo un pochettino la stella polare del nostro comportamento e iniziamo a farci prendere a volte dall'avedità, a volte dal panico, a seconda appunto delle fasi del mercato finanziario. Un secondo aspetto molto importante che hanno dimostrato è che siamo ulteriormente irrazionali quando dobbiamo prendere delle decisioni di investimento in una fase emotiva del nostro comportamento. Che cosa significa? Bene, in questo senso come ben sappiamo la cosa che più emoziona le persone è il denaro. Ecco, quindi uniamo le due cose. L'irrazionalità nei confronti di un mercato finanziario incerto è del denaro che ci emoziona. Ecco, questo binomio fa sì che noi spesso siamo irrazionali e lo studio appunto del nostro comportamento ci deve aiutare a rimanere coerenti a un metodo, a una disciplina, a una pianificazione finanziaria che abbiamo diciamo programmato in una fase diciamo di non stress dei mercati finanziari e quella è la stella polare. Per quando invece parliamo di economia comportamentale facciamo riferimento a Richard Thaler. Qual è la sostanziale differenza? Beh, Richard Thaler fa una disanima se vogliamo di quello che è la finanza comportamentale aumentando, rincarando la dose, nel senso che se per la finanza comportamentale siamo diciamo irrazionali in fase di incertezza, Thaler ci dice non solo, siamo irrazionali in qualsiasi momento perché per esempio se dobbiamo scegliere fra due beni, uno che costa meno, uno che costa di più, apparentemente l'idea ci dice che per trovare un equilibrio le persone andranno a comprare quello che costa meno perché appunto per il proprio credito ci permette poi di avere un vantaggio nel tempo, di avere magari una quota maggiore di risparmio, una quota maggiore di consumo, altri beni, ecco è quello che ci dimostra Thaler che non sempre il nostro comportamento è questo. Poi troveremo tante giustificazioni al nostro comportamento ma quello che ci insegna Thaler e ti farò vedere con dei video appunto di approfondimento è che se io conosco il tuo comportamento nelle tue decisioni di prendere delle scelte di acquisto comunque di consumi io ti posso in qualche maniera manipolare ed è quello che succede al supermercato piuttosto che nella pubblicità piuttosto anche nell'andare in vacanza nel scegliere un posto piuttosto che un altro siamo soggetti alla manipolazione di quello che poi in definitiva potrebbe essere il marketing ma a volte anche a quello che diciamo una persona più portata alla manipolazione se vogliamo di un'altra persona che invece è più trasparente più più ingenua se vogliamo. Ecco questi sono i due aspetti fondamentali ma andiamo avanti con la finanza comportamentale. I tre principali errori della finanza comportamentali sono questi ancoraggio disponibilità rappresentatività e adesso non te li sto a spiegare approfonditamente perché per ognuno ti farò un video di approfondimento per cui rimango un attimo su questo a caso mai metti la pausa e leggi le definizioni ma comunque te le parlerò più avanti. In particolare il problema della finanza comportamentale sono questi nella raccolta dell'informazione adesso non si vede il titolo perché c'è il mio video che è un concetto di disponibilità mentre l'elaborazione delle informazioni sono errori di ancoraggio e rappresentatività. Per farti capire meglio questo aspetto ti faccio subito un esempio. Guardiamo questo potrebbe essere un classico articolo di un giornale nei momenti in cui ci sono dei crolli di borsa quindi io ho pianificato nel lungo periodo nel medio periodo il mio comportamento in base ai miei desideri e obiettivi finanziari poi crollano le borse. Ecco il primo aspetto questo è ancoraggio nel senso che noi sappiamo i giornali vendono le cattive notizie non riescono a vendere il giornale con le belle notizie. Siamo maggiormente attratti e c'è un picco di vendite quando il giornale ti parla in maniera negativa. È la stessa identica informazione solo che da una parte vista da un punto di vista negativa e dall'altro qui a destra è invece un punto di vista positivo. Quindi il crollo di borsa può essere anche interpretato come saldo in borsa. Questo è il primo ancoraggio perché quando noi parliamo di crollo in borsa automaticamente ci viene in mente non lo so il 2020 col coronavirus piuttosto che il 2008 con mutui subprime piuttosto che il 2000 con il crollo delle dotcom e subito automaticamente andiamo a mettere crisi, recessione, disoccupazione, crollo dei titoli. Questo quindi è l'ancoraggio. Ovviamente è molto collegato alla disponibilità cioè cosa ci fa venire in mente subito? A cosa ci ancoriamo? A quello che è più disponibile nella nostra mente e quindi tutte le cose negative. In questo senso io spesso dico è importante sapere come ti sei comportato in quella fase, se hai vissuto quella fase. Hai perso delle opportunità o hai colto delle opportunità? Pensi di poter fare meglio la prossima volta che ci sarà un crollo in borsa? Lo andrai a interpretare come un saldo in borsa? Ora ci dobbiamo concentrare su quello che è la rappresentatività. In che senso? Bene, se il mercato scende del 20% ti ho già detto che per ancoraggio e disponibilità inizierai a pensare che farà anche meno 30, meno 40 è la fine del mondo. Se tu conosci le statistiche e hai un obiettivo diciamo di lungo periodo, medio periodo sai bene che a un meno 20 poi i mercati potranno fare meno 30, meno 40 ma poi recupereranno e quindi nell'arco dei 3 barra 5 anni, magari anche 10 nel caso più più difficili, però recupereranno e questo ci fa capire che quel momento di crollo è in realtà un saldo in borsa, quindi se hai della liquidità è il momento di comprare, non di vendere quello che sta perdendo ma di andare a comprare quello che oggi costa meno. Quindi in questo senso la rappresentatività che cos'è? E' conoscere le statistiche dei mercati finanziari e sapere e prevedere in quanto tempo un meno 20 può essere recuperato, quale opportunità rappresenta un meno 20% in borsa e in questo contesto ragionare nel lungo periodo. Altri errori di finanza comportamentale che io adesso te li faccio vedere molto velocemente sono la familiarità, la recuperabilità, la correlazione indotta, l'overconfidence, se vogliamo la confirmation bias, sono tutti errori di cui magari ti parlerò anche un po' velocemente, il seno di poi, l'effetto dotazione, il rimpianto, l'attribution bias che sono appunto i principali errori di cui tu devi diffidare, conoscerli in maniera nera da non commetterli. Poi magari te li leggi con calma e poi io te li approfondisco nei prossimi video. Grazie dell'attenzione, questo primo video di finanza comportamentale, di introduzione alla finanza comportamentale e all'economia comportamentale che farò in un secondo momento è finito. Questi sono i miei dati, se hai bisogno di qualsiasi cosa scrivimi, iscriviti al canale e continua a seguirmi per rimanere aggiornato ai prossimi video. Grazie e ciao!